Buona giornata e benvenuti e bene ritornati negli studi della Radio Pace. In questo giorno di mercoledì, siamo arrivati alla metà della settimana, mercoledì esattamente 13 di marzo. Scusate, ero un po' distratto dalla questione audio perché avevo in cuffia qualche problema. Adesso risolto, anche grazie alla collaborazione di Luigi Canu, che è il nostro regista di questa mattina, che salutiamo e ringraziamo, come salutiamo già anche Cristino Neto in redazione, che tra poco poi vedremo anche in diretta. Oggi, dicevo, 13 marzo, la Chiesa ricorda e festeggia in particolare San Rodrigo. Questo nome, Rodrigo, insomma per noi italiani è troppo associato a Don Rodrigo, che è il cattivissimo dei Promessi Sposi. Quindi pensarlo santo ci sembra strano, però in realtà c'è stato questo San Rodrigo di Cordova, sacerdote e martire. E poi andiamo ad altri santi, sempre dalla Spagna, San Leonardo di Siviglia, vescovo, Santa Cristina, martire invece in Persia, Sant'Ansovino di Camerino, Beato Agnello da Pisa, Sant'Eldrado di Nova Lesa, Beata Francesca Trehet e i martire e anche i martiri, Graziano Efelino, Corpo Foro e Fedele, Macedonio Patrizia Modesta di Nicodemia, San Pienzo di Poitiers, Beato Pietro II e San Sabino, martire in Egitto, San Salomone, martire a Cordova. Auguri a tutti coloro che oggi vesteggiano il loro santo patrono, in questa giornata del 13 marzo c'è chi ricorda una lieta ricorrenza, un anniversario, che compie gli anni, quindi auguri doppiamente. Andiamo adesso a vedere la situazione meteorologica che appunto è fuori dai nostri studi, vediamo una giornata nuvolosa, forse non ce l'aspettavamo qua nel Tiguglio, vediamo invece dei panorami un pochino più sereni, qua siamo nel Ponente Ligure, nel Savonese, sì, allora c'è nuvolosità, nuvolosità a tratti anche intensa sul centro della regione e dobbiamo dire anche sul Tiguglio perché in questo momento la nuvolosità è arrivata anche da noi. Però non è l'inizio della fine, ieri abbiamo detto che inizia una lunga fase anticiclonica, diciamo come oggi già si peggiora, già arriva una perturbazione, cosa sta succedendo? No, niente di tutto questo, succede quello che spesso diciamo, cioè gli anticicloni invernali, primaverili in questo caso o autunnali, che spesso si tramutano in periodi di tempo nuvoloso. Nuvoloso questo non vuol dire tempo brutto, poi nel pomeriggio avremo anche delle ampie schiarite, anche sul settore costiero dove adesso c'è maggiore nuvolosità, per assurdo invece negli entroterra le cose sono un po' diverse perché è già meno nuvoloso negli entroterra. Adesso possiamo fare vedere un'immagine di Rezzoaglio, per esempio, vediamo che la situazione a Rezzoaglio in questo momento è abbastanza serena, cioè c'è una certa velatura del cielo, ma non ci sono le nuvole che ci sono sulla costa. Questo per effetto appunto dell'alta pressione che blocca tutte le correnti in quota e quindi crea questa piccola maccaietta che ci terrà compagnia a fasi alterne nelle giornate. In particolare, come sempre, la mattina, la sera sono i momenti in cui sarà più nuvoloso. Nel corso della centralità della giornata, quindi metà mattina fino a metà pomeriggio, avremo invece maggiore possibilità di vedere il sole, soleggiamento e quant'altro. Poi la giornata di venerdì sarà ancora più nuvolosa di quella di oggi, quindi abituiamoci a questo clima un po' così. E in questo clima le temperature della notte sono lievemente salite, ma non di tantissimo, un pochino, un pochino sono salite e non sono scese al di sotto delle 0, nemmeno in altura, perché se noi andiamo ai 1.400 metri del rifugio Casalmente del Penna, che negli ultimi giorni dava sempre temperature negative, questa mattina invece è alle 2.25 la temperatura più bassa, registrata di 8 decimi di grado sopra lo 0, adesso siamo a 3.6. Resiste la neve sul Monte Bue, quindi insomma la possibilità forse di riapertura degli impianti c'è, ora poi lo vedremo meglio nel proseguo della settimana. Per quanto riguarda invece la bassa Val Daveto, qualche cosa di meno si è registrato, la temperatura è scesa, quindi in questo caso c'è stata un po' di escursione termica, con meno 1.2 gradi a Rezzo Aglio basso sui 700 metri e meno 2 gradi agli 818 metri di cabanne di Rezzo Aglio, quindi qua temperatura decisamente più fredda. Scendiamo nella Casali Borzonasca con 9 gradi, 8.2 gradi a Pontori di Ne, 5.8 gradi a Favale di Malvaro e 4.6 gradi a Pezzonasca di Moconesi, quindi vediamo che le temperature sono di un paio di gradi superiori a quelle di ieri, 7.2 gradi a Pian dei Preti di Tribogna, invece a Villa Uneto di San Colombano 7.8 gradi, scendendo sulla costa troviamo i 10 gradi di Santa Margherita Ligure, i 9.5 gradi di Rapallo, i 9.2 gradi di Chiavere, quindi anche qua le temperature sono salite di un paio di gradi rispetto a quelle minime degli ultimi giorni, non pervenuta a Lavagna, non pervenuta, no, pervenuto soltanto Sestilevante nel zona San Bernardo con 10.8 gradi, 10.9 gradi a Moneglia, località La Secca, 9.3 gradi a Ruta di Camogli, a Psori 11.1 gradi, a Genova Nervi 10.9 gradi, nel centro di Genova Marassi 8.3 gradi, a Pra, a Genova Pra 11.5 gradi, poi andiamo sulla costa Savonese a Celle Ligure 6.3 gradi, ad Imperia 8.9 gradi e a Ventimiglia 10 gradi, salita anche la temperatura un pochino dell'estremo Levante alla Spezia 8.9 gradi. Nel corso della giornata le temperature addirittura laddove ci sarà il soleggiamento potranno raggiungere quote direi quasi quasi estive o vecchie estati quando facevano il massimo 25 gradi di temperatura perché comunque avremo 19 gradi di punta massima prevista oggi in Liguria e non è poco per questo periodo dell'anno. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani iniziando da avvenire che punta l'attenzione su questa terribile droga in arrivo dagli Stati Uniti che si chiama fentanil e che è chiaramente una droga sintetica, uno piaccio sintetico, ma pensate, ha effetti 30-50 volte peggiori, cioè più potenti, dell'eroina. Cioè se negli anni 70 la minaccia era all'eroina, che tra l'altro costava anche molto, quindi insomma, non tutti la potevano acquistare, mentre invece questo fentanil è alla portata di chiunque e addirittura a volte arriva nei pacchetti di Amazon o di Ebay, cioè nel senso nei pacchetti normali dei corrieri perché c'è anche questa distribuzione illegale, chiaramente con pacchi falsi, falsificati marchi, però può succedere anche quello, cioè lo spaccio può avvenire anche via corrispondenza normale, bastano 3 milligrammi per intossicarsi. In Italia finora due morti, ma spaventa il caso degli Stati Uniti, che appunto dove lo spaccio, come dicevo, avviene sul web addirittura normalmente, in campo le mafie, quindi non c'è neanche bisogno di andare ai giardini e cercare il pusher, eccetera, eccetera, ma basta fare un click e si ha questa droga in casa. Incredibile, ma purtroppo questo è quello che sta succedendo. Meloni, siamo tra i primi in Europa a prendere un piano, ad adottare un piano per prevenire la diffusione degli opiatici sintetici. Prevenzione come cura è l'editoriale appunto di Viviana D'Aloisio. E poi ancora rifugiate, sono donne rifugiate in Italia, l'inclusione è dare la patente alle donne per renderle ancora più indipendenti. e poi le gang scatenate ad Haiti, se ne parla pochissimo perché ci sono altri problemi, perché di qua e di là, ma di Haiti se ne parla sempre poco, il paese più povero al mondo in questo momento in mano alle gang criminali, cioè le bande criminali, come se in Italia ci fosse al potere ormai la mafia, non so, e quindi è chiaro che invece la situazione è davvero pericolosissima. Il premier Henry si è dimesso, Haiti rischia la guerra civile. Salpa la open arms con gli aiuti a Gaza, Martina servono corridoi umanitari. E poi ancora la casa diventerà solo green, ma ogni Stato stabilirà come. Ieri il Parlamento europeo ha approvato questa direttiva, io l'ho letta ma non ci ho capito, moltissimo, stabilisce alcuni limiti, 2040, 2030, 2050, 2060, 2028 addirittura, che è tra quattro anni, e mette dei limiti, degli obiettivi, poi ogni Stato se la vedrà da solo. Ma vorrei sapere come, perché sono degli obiettivi non troppo semplici da raggiungere, ma comunque, vedremo. Iniziativa pure sulla intelligenza artificiale, meloni sui dossier, andare fino in fondo. E poi disforia di genere, il Gemelli di Roma inaugura un ambulatorio. Oggi anche l'inserto di avvenire l'economia civile, il campo adesso si autorigenera. Questa è la prima pagina di avvenire, passiamo invece sulla prima pagina del secolo XIX di oggi, e si parla invece della situazione nel Mar Rosso, l'Italia, la guerra dei droni. Mar Rosso, il Caglio Duilio entra ancora in azione, appunto per respingere gli attacchi a navi mercantili italiane e europee, appunto degli Houthi, che dice vi siete schierati con i nostri nemici, ma in realtà l'Italia sta solo difendendo le sue navi, sono loro che le hanno attaccate, semmai. Gerusalemme, l'esercito limita l'accesso alla spianata delle moschee durante il Ramadan, la Giordania profanati luoghi sacri. Il reportage, appunto il più forte sopravvive così la scuola dei rabbini, forma i soldati di Israele, Russia, fronte interno, i partigiani filo-ucraini prendono due villaggi, anche qua la guerra in Ucraina, molto dimenticata, ma è invece un abbraccio che sta bruciando sotto, magari si vede di meno, ma poi quando si tira un sasso arriva la fiammata. Tensione con Nordio della Meloni, sprint sulle nomine, Meloni regola i conti, sia per le nomine nella Cassa Depositi Prestiti che alla RAI. E poi ancora sulle case green, il Parlamento europeo approva il governo nostro e battuto perché l'Italia si è schierata contro questo provvedimento, quindi si vedrà come l'Italia poi lo reciperà. Regione in arrivo, il taglio dell'IRPEF per 800 mila Liguri, questa è una buona notizia. Brutta notizia invece per le nostre tasche, il basilico genovese sale alle stelle, è la legge del mercato, prezzi dimezzati per il prodotto nazionale, ma i mazzetti dopo restano ai massimi di un anno. E poi ancora ci sono tante altre notizie, vediamo Leonardo, protagonista della futura difesa europea, Cingolani vale al piano 24-28, calcio per acquisizione della sede del Milan, il Milan sarebbe, secondo questa ipotesi di inchiesta, ancora di Elliot, quindi ci sarebbe stata una finta vendita che chiaramente è colpita da provvedimenti penali e civili, indagati Furlani e Gazzidis, chiaramente è da provare questa ipotesi di reato. Poi il turismo, frenata per gli arrivi di Pasqua? Allora vediamo appunto subito nella pagina del secolo, sci e Pasqua bassa scoraggiano gli arrivi, cioè il fatto che stia nevicando molto sull'arco alpino e il fatto che la Pasqua sia un po' troppo presto, cioè alla fine di marzo, chiaramente limita un po' le decisioni, soprattutto degli italiani, solo il 30% per adesso ha prenotato le camere, ma gli albergatori dicono festività italiana, cioè Pasqua è molto sentita in Italia, un po' meno all'estero, perché anche a parte in Italia ci sono poi, alla fine per alcuni c'è solo un giorno di festa che è lunedì dell'angelo, però per le scuole c'è la chiusura e quindi c'è una settimana. I connazionali si muovono all'ultimo, quindi aspettano anche le previsioni meteo che chiaramente non arrivano prima di una settimana, quindi diciamo che si inizierà a capire il tempo del weekend pasquale soltanto intorno al 24-25 marzo, allora lì si deve vedere se arrivano le prenotazioni oppure no. E poi il secolo invece oggi così analizza i dati del turismo del 2023 per vedere anche delle particolarità, si sono stati meno italiani, più stranieri, quali stranieri, eccetera. Ma poi c'è una particolarità ancora più decisiva, cioè la frenata dei cosiddetti bed and breakfast. Tengono invece le hotel e le case vacanze, cioè appunto i turisti vogliono o la tradizione, cioè l'albergo con tutti i servizi, annessi e connessi, oppure la casa vacanza dove ognuno può fare veramente quello che vuole, non c'è il padrone di casa a guardarti, non c'è, non ci sono limiti di orari, eccetera, eccetera. E quindi questi sono i due orientamenti. A, diciamo, discapito del bed and breakfast, che è una sistemazione di mezzo, cioè la metà tra un albergo e un appartamento. A Santa Margherita le presenze degli italiani nell'ultimo anno sono diminuite del 12,88%. Rapallo e Lavagna, buone performance. Welding, Verdin di Ugal, dice, la prima, cioè Ugal sono la rete degli albergatori del Levante, la primavera 2024 presenta numerose incognite, cioè Terrà sarà uguale a quella degli anni scorsi, è difficile perché il 22-23 sono stati due anni quasi irraggiungibili dal punto di vista degli arrivi, soprattutto in corrispondenza proprio della Pasqua, che l'anno scorso era metà aprile, e dei vari ponti 25, 1 aprile, 1 maggio, l'ascensione, che in molti stati è una festività importante, eccetera. Quindi è chiaro che si dovrà vedere, soprattutto in questa prima fase, in questa prima parte della stagione, a primaverile, se terranno meno i dati. Meno 9% dei visitatori italiani a Sestri Levante, più 12,76% gli stranieri che hanno scelto Lavagna, meno 1,92% l'incremento degli arrivi a Moneglia. Ma parliamo dei B&B anche negli entroterra, perché ce ne sono tanti anche nelle zone, diciamo, limitrofe alla nostra riviera. E voi sapete che Telepace da qualche giorno sta facendo proprio un'inchiesta sugli affitti, su quanto costa avere una casa in affitto in Liguria, nel nostro territorio, nel Levante, in questi ultimi anni. Anche nell'entroterra gli affitti a volte sono cresciuti anche per effetto appunto del turismo, che si sta un po' allargando dalla costa verso le colline e le montagne del nostro entroterra. Vediamo il servizio. Appartamento sulla costa Ligure, a pochi passi dal mare, o villetta in collina con ampi spazi. Sono queste le due opzioni di alloggio per chi viene in vacanza nel Tiguglio. Sembrerebbe infatti che le richieste maggiori vertano sulla casa vicino al mare, anche se, come già approfondito, si rischia di imbattersi in prezzi davvero molto alti nella stagione che va da giugno a settembre. Al contrario, spostandosi nella prima fascia dell'entroterra, l'offerta è minore, proprio perché la richiesta risulta molto più bassa e anche i prezzi si ridimensionano. Qui, in città come Borzonasca, Casarza, Leivi, Cogorno e Carasco, si trovano poche case in affitto per la stagione e si punta molto di più sui bed and breakfast o sugli agriturismi. Lontani dal mare sì, ma dei comfort ci vogliono. Chi cerca infatti una soluzione da queste parti preferisce spazi aperti, magari una piscina, un grande giardino o parco giochi o comunque qualcosa che le attiri particolarmente. In queste zone si riversa circa il 30% dei turisti, non solo famiglie con bambini che non hanno interesse ad andare ogni giorno in spiaggia, ma anche coppie amanti della natura e persone più anziane che amano l'aria di mare, ma non intendono necessariamente armarsi di costume e fare il bagno in mezzo al caos di folla che si riversa sulla costa Ligure tra giugno e settembre. Un altro modo di vivere la vacanza che può rivelarsi una valida alternativa alla classica settimana in spiaggia con una casa a 100 metri dal mare pagata uno sproposito. Il secolo oggi ci dice che è sempre più difficile trovare guide che parlino perfettamente tedesco, perché negli ultimi anni chiaramente le guide sono molto specializzate in inglese e in altre lingue. Il tedesco l'abbiamo un po' lasciato da parte, anche molte scuole hanno smesso di insegnarlo. In realtà i tedeschi, come un po' gli italiani, non è che siano proprio interessatissime alla lingua estera e spesso non sanno nemmeno l'inglese, quindi quando arrivano in Italia hanno dei grossi problemi, cercano guide che parlino in tedesco. Andiamo a leggere oggi dal secolo, le guide, sempre più raro e difficile trovare professionisti germanofoni, la lingua di Berlino sta sparendo dalle scuole, e spesso programmare escursione è complicato, quindi se qualche ragazzo, qualcuno invece sta studiando il tedesco, sappia che c'è posto sicuramente per una guida in lingua germanofona, quindi sono molto molto ricercate. Invece cambiando argomento, ma sempre sulla stessa pagina del secolo, studenti a scuola di legalità la Don Gnocchi domattina, gli studenti della scuola Don Gnocchi di Lavagna seguiranno un incontro organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Futura attraverso il suo corso di comunicazione media e mondo il gioco d'azzardo tra giovani e giovanissimi. Va bene, allora a questo punto andiamo ad altri argomenti. Ogni giorno abbiamo una puntata di una soap opera che si sta sviluppando in questi ultimi giorni a Rapallo. Ogni giorno cambia il nome del candidato sindaco del centrodestra. abbiamo sentito Giorgio Costa, poi c'erano vari nomi, Lasinio, Mentore Campodonico, e poi c'era stata la settimana scorsa l'indicazione dei brigati, attuale vice sindaco, che sembrava mettere d'accordo tutti. In realtà poi un paio di giorni dopo abbiamo scoperto che nessuno era d'accordo su questo nome e quindi si è rifatto tutto quanto da capo. Oggi il secolo butta un altro nome nella mischia e questa volta è un nome addirittura di donna, quindi sarebbe la prima volta, se fosse eletta chiaramente, che Rapallo avrà una guida al femminile. Vediamo se poi questa butta ad oggi del secolo sarà vera o no, perché la mia impressione è che si buttino dei nomi, si veda un po' come reagisce la piazza e poi si vada avanti. Oggi il nome è quello di Elisabetta Ricci, che vediamo in questa foto, appunto, insieme a Mentore Campodonico, al sindaco e al vice sindaco. Il colpo grosso Ricci, c'è l'intesa con Cianci, Bagnasco perde alleati e cerca il sì dei partiti. Elezioni a Rapallo, non si fermano strappi e fughe nell'area di centrodestra, ruolo di prestigio per Campodonico se la candidata di noi moderati, ovvero appunto la Ricci, potrebbe, Elisabetta Ricci, potrebbe diventare appunto il nome della candidata sindaco del centrodestra. Ricordiamo che appunto la maggioranza uscente aveva una percentuale altissima di preferenze nella passata elezione cinque anni fa. Ricordiamo che appunto il sindaco Bagnasco è stato uno dei sindaci con maggiore approvazione popolare tra le città, con popolazione di sopra dei 15 mila abitanti, ma in questo caso la maggioranza scricchiola potrebbe dividersi in due o addirittura tre correnti e quindi c'è la preoccupazione da parte di chi ha appena fatto un mandato il sindaco in testa ma anche tutti gli altri assessori di non poter dare diciamo seguito alle iniziative che sono state portate avanti. Chiaramente dall'opposizione si sorride su questa vicenda perché invece l'opposizione è ben agguerrita e ha dei candidati già delineati, lo sappiamo, e quindi si vede cosa succederà. Diciamo che il centrodestra potrebbe farsi del male da solo, ecco è importante che questo si capisca e naturalmente ora vedremo se il nome di Elisabetta Ricci potrà essere un nome unitario che terrà unita tutta la maggioranza oppure divisivo. Allora se ne cercherà forse un altro. PUC di Portofino scontro in Regione, Garibaldi del PD nessuna verifica dopo l'esposto di raggio contro Via Cava, scarica Barile imbarazzante sulla partita del conflitto di interessi dice Luca Garibaldi capogruppo del Partito Democratico, gli risponde Marco Scaiola assessore regionale all'urbanistica amministriamo seguendo le regole e non secondo una visione miope e politizzata. Cambiamo argomento sempre dal secolo XIX di oggi pesce non tracciabile e conservato male sequestri e sanzioni a Sestri e Levante controlli dei militari 28 kg di prodotti ittici ritirati dal mercato allertata all'ASL 4 Chiavarese operazione della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligura ad un negozio o un ristorante multe da 7000 euro ricordiamo che è importantissima la segnalazione e la tracciabilità del pesce che ogni commerciante e anche ogni ristoratore ha nel suo frigo e poi un fatto travolto da un treno in transito studente muore a 19 anni tragedia Genova Sturla il ragazzo risiedeva nel Levante naturalmente ancora poche indicazioni su questo terribile fatto incidente stradale invece sull'Aurelia Cavi ieri pomeriggio intorno alle 17 e 10 l'episodio non ha avuto gravi conseguenze ma ha causato il disagio della circolazione coinvolti due automobilisti uno dei quali ha rifiutato il trasporto in ospedale ma come detto appunto per fortuna anche l'unico ferito è stato poi portato in codice verde il meno grave al pronto soccorso di Lavagna minacce di morte all'ex moglie arrestato un uomo di 70 anni a Rapallo dopo ripetute richieste di Nenaro aveva violato il divieto di avvicinamento segnalato dal braccialetto elettronico a monte della vicenda anni di supprusi e di violenze operazione della polizia tutela della vittima presa di mira dopo la separazione e ancora dalla stessa pagina del secolo una rissa tra due operai arriva pugni e calci in cantiere dopo una discussione e appunto addette di un'impresa esterna e a Fincantiere stigmatizza l'accaduto e prende le distanze da quanto avvenuto all'interno dei suoi locali quindi non erano operai della Fincantiere ma di una ditta esterna e ancora domani a Sestri Levante prevenzione esami gratuiti per il Rene Dei presidio all'ospedale quindi di Sestri Levante doppia iniziativa dell'ASL 4 giornata contro la violenza verso gli operatori sociosanitari e anche questa giornata di prevenzione a tutte le problematiche legate al Rene a questo punto ci fermiamo un attimo ma andiamo alla linea alla redazione dove vedo prontissima Cristina Oneto buongiorno Cristina buongiorno Marco un saluto agli ascoltatori si prendiamo la linea dalla redazione con un aggiornamento sulle numerose ferite che il maltempo dello scorso fine settimana ha lasciato sul nostro territorio come spesso avviene alcune frane alcuni smottamenti avvengono anche dopo che l'emergenza maltempo è terminata e la segnalazione in questo caso arriva da San Colombano Certennori una frana è scesa lungo la strada intercomunale Manai-Vallefredda a segnalare il fatto il consigliere di minoranza capogruppo di territorio sviluppo Claudio Solari la frana isolerebbe alcune famiglie che abitano nella frazione di Vallefredda vediamo questa immagine appunto che riproduce lo smottamento che occlude quasi interamente la carreggiata ricordiamo ora invece un appuntamento un appuntamento diocesano sono infatti iniziati questa mattina gli esercizi spirituali per l'ambito pastorale di Chiavari Levi e Camposasco questa mattina alle 7.15 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari lo spazio dedicato alla recita delle Lodi questa sera alle 19 la prima meditazione proposta dal vescovo Giampiù De Vasini sul tema Cristo mia speranza è risorto gli esercizi proseguiranno anche nella serata di giovedì e di venerdì in tutti e tre i giorni Telepace riprenderà le catechesi del vescovo e le trasmetterà in differita alle 21.45 su Telepace 2 al canale 85 non ci sono altri aggiornamenti la linea può tornare allo studio allora ritorniamo parlando proprio di un fatto di cui ci ha parlato proprio Cristina Oneto ieri dalla redazione quindi la ringraziamo doppiamente sia per oggi che per ieri perché c'è stata una notizia che oggi appunto è sul secolo albero crolla sul cancello dell'acquarone di Chiavari il centro benedetto acquarone illesa la custode all'interno della struttura vediamo appunto la caduta di questo albero che ha praticamente sfiorato la casetta del custode studio del comune sulla salute delle piante ad alto fusto solari nessuna classificata come pericolosa però purtroppo i pini marittimi a volte cadono anche senza dare grossi grossi preavvisi danni limitati nessun ferito su indicazione dell'agrono eravamo pronti a tagliare quel pino poi dispiace sempre però quando succedono queste cose sono ancora più gravi di tagliarli e poi una mangia plastica per il riciclo dei rifiuti fondi PNRR a Lavagna finanziamento da 30.000 euro azioni concrete a tutela dei pazienti Fiocchetto Lilla revoca gli eventi a Stasenevante c'è grande polemica sul fatto che possa chiudere un ambulatorio importante dedicato a tutte le problematiche dei disturbi alimentari e appunto quindi c'è un'azione che questa associazione vuole compiere per ristabilire invece questo servizio così davvero importante perché purtroppo disturbi alimentari sono molto molto di più di quelli che noi pensiamo e soprattutto colpiscono soprattutto gli adolescenti allora andiamo adesso invece a parlare di Sestri Levante nuove regole per la Baia del Silenzio tavolini solo dalle 18.30 in poi stoppa e De Orse in spiaggia a mezzogiorno scaiola sul ticket e finora nessun progetto le regole sulla spiaggia più famosa d'Italia per il periodo estivo e ancora Camogli un bel vedere dedicato a Ottone appunto Piero Ottone giornalista che vediamo nella foto fu anche direttore del secolo XIX da lì guardava il mare scomparso nel 2017 decreto anti palamiti la regione si impegna a chiedere modifiche al governo dopo l'interrogazione di Claudio Muzio di Forza Italia e ancora da Zoagli recupero del lungomare sia il progetto esecutivo e ammonta a circa 53.000 euro la somma necessaria a ripristino del lungomare di Ponente dopo i danni delle varie mareggiate i marosi avevano colpito in diverse località la giunta comunale ha appena approvato il progetto esecutivo per il recupero del cosiddetto lungomare dei naviganti di Zoagli e poi naturalmente c'è anche lo spazio dello sport missione Entella mettersi in sicurezza lucchese indigesta distrazione vietate dopo domani si gioca e dopo domani sarà anche la giornata in cui la Virtus Entella ricorda i suoi 110 anni di vita al Via le celebrazioni per il 110 anni di vita bianco celeste l'anniversario della società proprio sarà ricordato ad iniziare dal prossimo 15 marzo proprio la sera quando ci sarà la partita contro la lucchese in casa quindi allo stadio comunale di Chiavari e ancora la Calvarese vola in promozione e riscrive la storia del calcio Ligure per la prima volta questa squadra della Fontana Buona valica appunto la prima categoria e arriva in promozione con la grande gioia naturalmente di tutta la squadra e di tutti i tifosi della Calvarese e a questo punto andiamo anche a scoprire quali sono gli eventi di oggi nella nostra scheda nella nostra agenda Appuntamenti in agenda per mercoledì 13 marzo nell'ambito del progetto Centro di Cultura Musicale a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure si terranno diversi concerti lirici per contribuire alla diffusione della cultura musicale primo appuntamento alle 16 con la Boheme di Giacomo Puccini per il 19esimo Corso di Cultura Genovese andrà in scena l'evento personaggi e storie di emigrazione nel Levante Ligure moderato da Antonella Riccardi con Andrea Pedemonte e Dadele Repetto l'inizio alle 16.30 all'auditorium della Filarmonica l'ingresso è libero incontro con Andrea Boccone artista della mostra Femminilmente che ha lo scopo di esprimere via immagine una riflessione personale dell'artista sul tema del contrasto alla violenza sulle donne l'appuntamento alle 16.30 alla Biblioteca Benzi di Genova proseguono a Lavagna gli appuntamenti con A Tutto Libri alle 17 nella sala dell'Ardese della Biblioteca Servandini Bini verrà presentato il libro Omicidi in Appennino di Sandro Antonini sesto appuntamento del ciclo di incontri a Fil di Scienza alle 17 all'auditorium dell'Acquario di Genova Lia Piano Alberto Grassetti e Francesco Giacobbello analizzeranno il rapporto tra la città di Genova e il Porto Antico sempre a Genova all'interno del salone Municipio 5 Valpolcevera alle 18 ci sarà la cerimonia di premiazione del premio letterario Adesso Parliamo Noi lanciato in occasione del 25 novembre al Teatro Acropolis di Genova si terrà il secondo concerto del ciclo Largo ai Giovani facciamoli suonare alle 21 sul palco si esibirà il quintetto Euterpe Allora adesso proprio in interfono il nostro regista Luigi Cano mi chiedeva ma oggi piove ma in realtà no oggi non dovrebbe piovere nonostante questo però vediamo una diciamo nuvolosità piuttosto corposa sul nostro territorio nel centro della Liguria perché? perché abbiamo già detto questo effetto alta pressione è anche un effetto diciamo così campana di vetro e quindi blocca isola un po' il nostro territorio dalle correnti e questo porta anche all'accumularsi di umidità umidità che poi si addensa in nuvole che purtroppo interessano soprattutto la nostra costa molto molto meno l'entroterra quindi oggi sarà più nuvoloso appunto sulle riviere che non sui monti soprattutto in altura questa situazione è destinata per durare perché questa alta pressione dovrebbe tenerci compagnia per tutta la settimana sì con appunto fasi più nuvolose come questa mattina fasi un po' meno nuvolose come dovrebbe succedere nel centro e nel pomeriggio di questa giornata poi ritornerà la nuvolosità anche un po' domani e poi venerdì sarà ancora più importante come nuvolosità però al momento mi sento di escludere precipitazioni se non venerdì in qualche caso ma questo poi lo vedremo andando avanti quindi oggi pomeriggio dovrebbe esserci una situazione più soleggiata almeno stanno anche quello che prevede la Lime vedete il sole anche sull'estremo Levante e più sole sulla costa ma soprattutto il sole sull'entroterra per quanto riguarda i venti moderati dei quadranti meridionali con mare poco mosso o il più mosso le temperature nel corso del pomeriggio grazie anche all'eventuale soleggiamento potrebbero arrivare a toccare punte fino a 19 gradi questo non vuol dire che la media sarà sui 19 gradi potremmo stare sui 16 17 18 gradi ma con delle punte anche fino a 19 andiamo a situazione prevista per domani 14 marzo giovedì domani i tecnici della Limit prevedono cielo parzialmente nuvoloso lungo la fascia costiera con maggiori schierite nelle zone interne e in altura i venti saranno a regime di brezza il mare poco mosso e le temperature non subiranno variazioni di rilievo e come abbiamo sentito come sentiamo le notti sono un pochino più meno fredde le giornate più calde quindi le temperature si stanno alzando qualcuno dirà siamo in primavera però insomma non dovrebbero arrivare a 19 gradi in questo momento sappiamo capiamo che sono temperature sempre un po' al di sopra della media soggiornale o di quello che noi ci aspetteremmo dal mese di marzo terminiamo qua grazie per averci seguito l'informazione torna alle 12.45 con il telegiornale domattina ore 7.30 grazie a Luigi Cano per la regia a Cristiano Leto in redazione e a tutti voi che ci avete seguito da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti